Il suo nome viene tirato in ballo ogni volta che si parla di elezioni. Roberto Gravina qualche giorno dopo le politiche commenta l'esito del voto che ha confermato il Movimento 5 Stelle primo partito in regione ma ha anche segnato un forte calo dei consensi rispetto a cinque anni fa e soprattutto ha segnato la scomparsa del Movimento nella delegazione parlamentare molisana. C'è da dire che il bicchiere resta mezzo pieno almeno per quanto riguarda il risultato finale perché tutti si aspettavano una vera e propria caduta e invece ha retto però di fondo non abbiamo nessuna rappresentanza parlamentare. Questo è un fatto quindi non possiamo certo cullarci troppo sul risultato perché adesso è bene anche ristrutturare il Movimento così come efficacemente sta facendo Giuseppe Conte. Molti osservano che il Movimento 5 Stelle e il PD si avessero affrontato insieme e le elezioni avrebbero ottenuto un risultato diverso. Gravina su questo frena ma guarda con interesse ad una possibile ripresa del dialogo in vista delle prossime regionali. L'aritmetica sarebbe troppo semplice perché poi va anche compreso come l'elettorato ha scelto o ha approvato o non ha approvato questa scelta di andare divisi. Chiaro è che c'era un percorso avviato, francamente mi risulta abbastanza strumentale ma lo dico con rispetto risibile anche parlare di agenda Draghi quando di fatto era un'agenda di un po' tutti i partiti in quel momento. La Meloni ha sfruttato l'occasione per restare in opposizione ed è stata premiata. Per quanto riguarda il centro-sinistra mi auguro davvero che ci sia una riflessione. Oggi è prematuro ed è altrettanto chiaro che ci sarà bisogno anche di capire, di interloquire a livello nazionale su quelle che saranno le esperienze già valide attualmente di centro-sinistra quindi all'interno del Movimento 5 Stelle e capire se ci sono le basi per continuare questa discussione o interromperla definitivamente. E proprio sull'impegno delle regionali di primavera cosa farà il sindaco Gravina? Gravina osserva e soprattutto deve comprendere quelle che sono le decisioni a livello nazionale per capire in che direzione andare. Quindi faccio il sindaco di Campobasso, lo dico forse in modo anche stancante e sono impegnato a fare questo.